Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo Scusate l'eco, se si sente, non lo so Sono ancora ad Atene, tra il mio ultimo giorno e per questa serata ho un piano un po' speciale Perché andrò a vedere la Tromitos La Tromitos è il quinto club di Atene che vedrò Sono andata a vedere le Big Three, ho visto il Calitea contro l'Olympiakos E questa sera per completare andrò a vedere la Tromitos contro il PAOK E andrò a vederlo sia per vedere questo stadio un po' particolare che hanno, questo club un po' inedito Ma anche perché giocano contro il PAOK, quindi mi interessa molto È un club molto storico in realtà perché è stato fondato nel 1923 Quindi effettivamente è un club centenario Negli ultimi 10-15 anni anche è arrivato a giocare anche in Europa Perché si è classificato il piazzamento migliore negli ultimi anni, è stato il quarto posto Comunque ha giocato in Europa, in Europa League, proprio le prime fasi Però comunque in Europa È un club che ha subito molte fusioni L'ultima in realtà è stato rifondato formalmente nel 2005 Infatti si è fuso con un club più piccolo che non aveva una grande fanbase ma aveva il budget E loro non avevano la fanbase e non avevano il budget Il proprietario di questo altro club è diventato il proprietario della Tromitos Che è un proprietario di un'azienda petrolifera, di un gruppo petrolifero insomma Comunque è un club piuttosto piccolo, è allenato da un sudamericano Anche questo sembra essere un trend qua tra le squadre greche Il simbolo è una stella perché inizialmente si sono fusi con una squadra che letteralmente di nome era Stella Quindi hanno questo scudo con questa stella, bianco e blu Atromitos letteralmente vuol dire fearless, quindi senza paura Non so, mi incuriosisce, voglio vedere, sono pronta ad essere sorpresa perché finora devo dire che lo sono stata C'è un sacco di cultura proprio di calcio, si respira nell'aria, si vede sui muri Un sacco di, anche l'atmosfera, lo stadio, i quartieri degli stadi pieni di murales Davvero bellissimo, quindi non vedo l'ora, adesso vado a prepararmi e poi andiamo a Peristeri Che è un, diciamo, un quartiere suburbano di una municipalità insomma attaccata ad Atene Piuttosto grande, più di 100.000 persone Quindi, non lo so, andiamo a vedere com'è Grazie a tutti Grazie a tutti C'è giusto un po' di polizia Grazie a tutti 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 E Grazie a tutti 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 Grazie a tutti